Ok, allora adesso leverò la chat così non ci disturberà, la riapriamo dopo per i saluti. Ecco qui, e andiamo a cominciare. Allora, salve a tutti, mi chiamo Silvana Cinus, sono una traduttrice professionista che lavora nel settore da circa 12 anni, ma da un paio d'anni sono felice di aver avviato una nuova attività con il network marketing, soprattutto nel settore della videocomunicazione. Innanzitutto, qualche nota tecnica, se doveste avere problemi di audio o video, potete tranquillamente uscire dalla sessione e rieseguire il login. Generalmente, se accade che si blocca qualcosa, è un problema delle connessioni di ognuno di noi, quindi non abbiate paura ad uscire dalla sessione e a rientrare tranquillamente. Un'altra cosa, vi chiedo subito, scusa se mi vedrete leggere, ma le cose che ho da dirvi sono tantissime, tutte importanti. Ho promesso che la sessione sarà breve perché non voglio annoiare nessuno, quindi per non rischiare di dimenticare qualcosa mi vedrete leggere, abbiate pietà. Inoltre, sono lieta e orgogliosa di fare questa presentazione in italiano, di avere tutti voi qui presenti oggi, segno che l'attività sta crescendo molto bene anche qui in Italia, il gruppo si sta espandendo, e questo è un segno forte della crescita globale che sta avendo l'azienda di cui sto per andarvi a parlare. Come vi consigliavo prima in chat, se avete carta e penna a portata di mano, è meglio così potete annotarvi qualunque dubbio o domanda vogliate poi porre alla persona che vi ha invitato qui stasera. Allora, che dirvi, io direi che come ultima cosa vi dico che la piattaforma che state vedendo, che stiamo utilizzando, è una piattaforma di videoconferenza che è uno dei prodotti dell'azienda di cui andrò a parlare, è soltanto uno, si chiama Live Broadcasting, come vedete anche dal titolo del layout della piattaforma, adesso toglierò anche questo, così la presentazione sarà più grande e più visibile. Bene, a questo punto andiamo a cominciare veramente con le cose importanti. Ed ecco qui la prossima slide. Ok, allora, per iniziare vorrei sottolineare innanzitutto l'importanza dell'attività del network marketing oggi nella nostra società. Capisco perfettamente se tutti voi a sentire questa parola vi susciti qualche perplessità, addirittura pregiudizi, scetticismo. Io vi garantisco che anche io, quando mi sono trovata dalla vostra parte, ho provato esattamente le stesse cose. Ma l'unica cosa che vi chiedo gentilmente di fare è quella di mantenere un atteggiamento aperto e disponibile all'ascolto, in modo poi da poter valutare liberamente quello che state per sentire. Partite anche dal presupposto che la persona che vi ha invitato, insomma, vi conosce, quindi magari un po' di fiducia tra di voi c'è e non stiamo qui a raccontarci bufale, insomma. Allora, il network marketing oggi è un modello di business adatto a tutti, che non richiede competenze particolari in cui ognuno può acquisire le abilità necessarie e indispensabili per avere il successo che desidera, soprattutto senza dover affrontare gli alti costi e i rischi di un'attività tradizionale. Per gli analisti questo è il business del XXI secolo e rappresenta una delle più grandi opportunità mai viste prima per chi vuole raggiungere la propria indipendenza economica e anche avendo più tempo libero a disposizione. Anche il Wall Street Journal ha pubblicato recentemente un rapporto molto dettagliato sullo sviluppo e sulla crescita di questo settore identificandolo come modello leader di business e all'interno di questo rapporto un esponente della CNBC, l'emittante internazionale di notizie finanziari, afferma che è giunto il momento di riconoscere che il modello di business del network marketing funziona e funziona anche molto bene. Ma veniamo a noi, vorrei cominciare col porvi una domanda che probabilmente nessuno vi ha mai fatto prima o comunque non magari in modo così diretto e alla quale soltanto ognuno di voi può veramente rispondere. La domanda è la seguente, se avete tutto il denaro e tutto il tempo libero che desiderate, quanto sarebbe diversa la vostra vita? Pensateci un momento. Che so, ad esempio, vivrete nella stessa casa, avrete la stessa macchina, indossereste gli stessi abiti, viaggereste di più, per chi lo desidera magari potrebbe crearsi la famiglia che ha sempre desiderato o chi invece ha bisogno di estinguere il mutuo, le tasse, i debiti, aiutare magari un amico o un parente in difficoltà. Insomma, questa non è una domanda banale, soprattutto oggi con i tempi di crisi in cui stiamo vivendo. Cosa fareste del vostro tempo se i soldi non fossero un problema? E le risposte a tutte queste domande non sono altro che i vostri sogni e desideri che tutti voi vorreste realizzare. Vi faccio anche un'altra domanda, che è un po' la conseguenza di quella che vi ho appena fatto. Il vostro attuale lavoro, la vostra attività, i vostri guadagni reali in questo momento, vi consentono di vivere la vita che desiderate? Se la vostra risposta è sì, io sono molto felice per voi e vi auguro tutta la felicità e tutto il successo che meritate. Ma tuttavia, purtroppo, la maggior parte delle persone oggi a questa domanda risponde no. E generalmente i lavori e i guadagni cosiddetti tradizionali non soddisfano le posizioni di impiegati, dipendenti, liberi professionisti. Anche nel caso in cui si ha un'attività in proprio, prima o poi arriva il momento in cui si realizza che non siamo noi ad avere un'attività, ma l'attività ad avere noi. E generalmente i nostri lavori ci tengono in pugno, arrivando al punto di non avere più tempo libero, di non avere più una vita al di fuori del nostro lavoro. Tutti quindi, tutti conosciamo una vita fatta di stress, di orari e carico di lavori eccessivi, retribuzioni non adeguate, preoccupazioni, precarietà, incertezza, futuro zero, insomma potrei andare avanti fino a domani. Ma non voglio tediarvi con queste cose nere e pesanti, anche perché la crisi economica che stiamo vivendo ha colpito tutti, chi più o chi meno, e non ha risparmiato nessuno. Però devo dire che oggi, più che mai, le persone si stanno chiedendo se esiste un'alternativa, se c'è qualcosa che consenta loro di migliorare non solo le proprie condizioni economiche, ma anche la vita in generale, la qualità della vita. Bene, sono felice di dirvi che un'alternativa c'è, io l'ho trovata e questa sera voglio condividerla con voi, e l'alternativa si chiama TalkFusion, il nome dell'azienda che quindi andremo a presentare. TalkFusion è l'opportunità, per quanto mi riguarda, con la O maiuscola, il piano B che un po' tutti stavamo aspettando. L'azienda è un'azienda molto giovane, estremamente solida dal punto di vista finanziario, e si è già sviluppata in oltre 120 paesi del mondo, coinvolgendo professionalmente centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo e cambiando radicalmente la loro vita. E vi assicuro che non sto scherzando, anche perché la tecnologia innovativa dei prodotti dell'azienda la rende veramente unica al mondo e perfettamente posizionata per cavalcare il trend di mercato del momento che è il video online. Per farvi capire meglio di cosa sto parlando, posso citarvi ad esempio Alexa, che è una delle più accreditate compagnie indipendenti di statistiche online, che ha classificato TalkFusion come l'azienda di home business, il lavoro da casa dalla crescita più rapida al mondo in questo momento. Quindi se state cercando un'opportunità professionale che si riveli innanzitutto una soluzione per la vostra situazione finanziaria, è chiaro che dovete rivolgervi a un sistema di business sicuro, finanziariamente stabile e dalle prestazioni riconosciute e comprovate. Bene, TalkFusion in questo senso posso dirvi che è registrata e approvata dalle principali associazioni di vendita diretta, come ad esempio la DSA, la Direct Selling Association e il DSAI, il Direct Selling Educational Institute, che hanno riconosciuto l'eccellenza delle prestazioni di questa azienda. E anche il BBB, il Better Business Bureau, l'organismo indipendente americano che verifica l'affidabilità delle aziende commerciali, ha classificato TalkFusion come azienda di categoria A, il livello più alto. C'è un grande entusiasmo, come avrete capito, intorno a questa azienda, al punto che tutti i mezzi di comunicazione ne stanno parlando. Per citarne alcuni, ad esempio il quotidiano USA Today, l'emittente Channel 4 e il magazine Forbes, quello per intenderci che ogni anno pubblica la classifica degli uomini più ricchi del mondo. E sapete perché? Perché tutto questo entusiasmo? Perché TalkFusion sta letteralmente rivoluzionando il mondo della comunicazione e vi garantisco che questo non è soltanto uno slogan di marketing. Infatti, per capire la potenza di questa affermazione, pensiamo a cosa è accaduto nella storia della comunicazione e a tutte le tecnologie che hanno cambiato la nostra vita. Ad esempio, partiamo dalla parola a comunicare elettronicamente con la radio, poi c'è stata la combinazione di sonore e immagini con la tv e pensate a quale impatto ha avuto la tv, la televisione nella vita dell'uomo. Per arrivare, non molti anni fa, all'avvento di internet e della posta elettronica, le email, che ci hanno consentito di comunicare in tempi rapidissimi e a doppio senso. Bene, oggi sono lieta di presentarvi un prodotto di posta elettronica che integra perfettamente l'audio e il video e si chiama VideoEmail, uno, diciamo, il prodotto di spicco dell'azienda TalkFusion. Vi faccio vedere anche la slide, ecco qua. VideoEmail è un prodotto assolutamente unico al mondo, non c'è nulla di simile sul mercato e grazie a questo prodotto, il primo realizzato dall'azienda TalkFusion, l'azienda è diventata leader assoluto nel settore della videocomunicazione. Ed è anche il prodotto principe, diciamo, ma per presentarvelo meglio vi faccio vedere un brevissimo video in modo che possiate capire subito di cosa sto parlando. Buona visione e ci sentiamo dopo. Buona visione e ci sentiamo. Buona visione. Bene, questo era solo un assaggio del prodotto VideoEmail. Brevissimamente vi dico che quelli che avete visto sono i vari template predefiniti, ce ne sono centinaia disponibili con il prodotto e sono tutti perfettamente utilizzabili da chiunque. Basta semplicemente girare, registrare il video, scegliere layout e inviare questa mail. Non ci sono allegati da caricare o da scaricare, quindi la persona che riceve la posta elettronica non deve far altro che aprire una semplice mail, solamente che invece del testo, che comunque può essere presente a vostra scelta, avrà il piacere di vedere il vostro volto e di sentirvi parlare. O comunque anche di vedere un video che avete registrato e che volete mostrare al vostro destinatario. Quindi immagino abbiate capito un po' la potenzialità di questo strumento anche perché la vera realtà può essere comunicata soltanto attraverso il video. VideoEmail di TalkFusion infatti consente di sfruttare tutti gli elementi comunicativi più importanti che solo una comunicazione faccia a faccia consente. Il tono di voce, l'espressione del volto, le emozioni e la personalità di ognuno di noi e questo sia in campo professionale che personale. Niente a che vedere con una semplice comunicazione scritta. Ma per farvi capire meglio le potenzialità di questo strumento vi mostro un altro brevissimo video e ci vediamo subito. Ciao! Hi! We have a new thing coming to your inbox. It's called Spirit FM Video Mail. Don't delete us! Yeah, don't delete us. Hello and welcome to the video health tip of the week. This week I want to talk about posture and I want to talk about the aging process. Some might say this worst case scenario is an uncleanable carpet, but not with chem drive. Watch as I run the powerhead over the soiled area. You will see the true power of hot carbonating extraction. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday Miss Debbie! Happy birthday to you! Eat more cake! Join Top Fusion! Hello everybody, this is Kenneth Andreason, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Oh, here they come. Whoa! Whoa! Unbelievable. The Humane Society's Caring and Compassion should serve as an inspiration to all of us. Every person who works at the facility deserves to be recognized and applauded for all they do and all they sacrifice. Fifteen years of hair growth. Donate it to lots of love. And have a good time doing it. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from Northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. And that's it. And that's it. But, I'm not. There's a lot of hope for you. And that's it for you. And you're done all the time. You're done. And you're done. That's it for the future. presentano delle piccole lezioni per i loro studenti, associazioni benefiche, sportivi, semplicemente una mamma che vuole far vedere il bambino ai propri nonni, insomma veramente qualunque tipo di attività. Inoltre le video email di TalkFusion possono essere visualizzate e create direttamente anche dai dispositivi mobili come gli iPhone, gli iPad, i dispositivi con tecnologia Android, i vari smartphone e tanti altri dispositivi. Grazie a questa speciale applicazione che l'azienda ha realizzato che si chiama Fusion on the Go. Come vi ho anticipato prima però, TalkFusion non produce solamente video email, questo è soltanto uno dei prodotti dell'azienda. Infatti l'azienda crea, sviluppa e produce la sua tecnologia di videocomunicazione e ha realizzato un pacchetto di ben 8 prodotti all'avanguardia perfetti sia per l'uso personale e professionale. In altre parole, per divertirsi con amici e parenti, per stringere rapporti con colleghi, clienti, rafforzare le attività di social networking o comunque di promozione di un prodotto o della vostra attività da libero professionista, insomma basta avere accesso a internet e tutti in tutto il mondo possono utilizzare questi fantastici prodotti. Come vi ho detto i prodotti sono atto e per avere un'infarinatura generale di questi 8 prodotti vi faccio vedere un altro piccolissimo video. TalkFusion Bene, da questo video avete potuto vedere solamente i nomi dei prodotti ma se poi siete curiosi di saperne di più potrete chiedere e fare tutte le domande che volete alla persona che vi ha invitato qui questa sera. Inoltre andiamo avanti e vediamo che nell'attuale contesto sociale di mercato i prodotti di questa azienda sono perfettamente posizionati ai vertici del prossimo megatrend globale che abbiamo detto è il video online. Infatti la tecnologia di TalkFusion viene già utilizzata nel campo della formazione, dell'insegnamento, delle public relations, del marketing, dei prodotti artigianali. Ci sono persone che lo utilizzano per presentare o fare dimostrazione dei propri prodotti oppure semplicemente come vi ho detto per comunicare con amici e parenti. Questi prodotti quindi sono l'ideale per tutti in qualunque parte del mondo anche perché abbiamo visto che il mondo della comunicazione si sta letteralmente spostando e anche in modo abbastanza veloce verso la comunicazione video. Infatti Bob Brena, il fondatore e presidente dell'azienda, ha detto che la chiave per creare la ricchezza sta nello scoprire dove si sta dirigendo la massa ed arrivarci per primi ed è esattamente quello che è riuscito a fare creando questa fantastica tecnologia di videocomunicazione immettendola sul mercato a prezzi vantaggiosi e diventando subito leader nel settore. Infatti gli esperti del settore, tra cui l'azienda multimiliardaria Cisco, il gigante di Internet, prevedono una crescita esponenziale entro il 2014. Entro questa data, il 90% del traffico globale in Internet, compreso quello effettuato tramite i vari dispositivi mobili compresi cellulari, sarà sicuramente video. Pensateci un attimo anche perché il 2014 non è affatto lontano ed è facile capire come questa azienda con questa tecnologia sia perfettamente posizionata per sfruttare al massimo questa crescita globale. E se vorrete, voi potrete farlo insieme a lei. Nella prossima diapositiva, scusatemi se parlo molto velocemente, ma non voglio farvi perdere tempo, nella prossima diapositiva vi mostro alcune delle numerose aziende note a livello internazionale che utilizzano già i prodotti TalkFusion, grazie ai quali hanno sviluppato e potenziato le loro attività. Abbiamo Applebee's, ad esempio, la famosa catena che opera nel settore della ristorazione, la Norwegian Cruise Line, dalla decennale esperienza nel settore delle crociere, la DHL, la famosa azienda di logistica e trasporti, e poi anche come avete visto nel video prima, ci sono emittenti radiofoniche, associazioni benefiche, squadre sportive, atleti, la Mercedes-Benz che non ha bisogno di presentazioni, o ad esempio anche gruppi di agenzie immobiliari. Insomma, i prodotti TalkFusion non sono solo gli strumenti perfetti per l'uso professionale e personale, ma sono anche una fonte di guadagno istantaneo e qui viene la parte più interessante di questa presentazione. Vi chiedo di prestare attenzione all'aggettivo istantaneo perché presto vi spiegherò il perché. Naturalmente io non conosco la situazione economica di ognuno di voi, ma è probabile che, come la maggior parte delle persone, i vostri guadagni provengano da lavori cosiddetti tradizionali, impiegati, dipendenti, liberi professionisti, artigiani o titolari di un'attività commerciale. Se questo è il vostro caso, come quasi tutti fate parte del club 404040, ovvero lavorate un minimo di 40 ore a settimana per almeno 40 anni, nella migliore delle ipotesi, viste le nuove disposizioni governative, e andrete in pensione, sempre nella migliore delle ipotesi, con il 40% di ciò che già prima non vi bastava per arrivare a fine mese. E oggi che viviamo giorni particolarmente difficili dal punto di vista economico, ma anche occupazionale, chi di noi non è in cerca di un'opportunità migliore da tutti i punti di vista? Bene, per quanto mi riguarda, non esiste opportunità migliore di TalkFusion. TalkFusion infatti, questa azienda offre la possibilità di un piano a breve e medio termine, da 2 a 5 anni, per costruire un'attività interamente indipendente, a tempo pieno o part time e completamente da casa o da dove voi volete. Ora, per capire se l'attività può fare per voi oppure no, rispondete a due semplici domande. In realtà la domanda è solo una, ma sono due domande concatenate. Innanzitutto, pensate se conoscete due persone interessate a migliorare la propria situazione economica, ad aumentare i propri guadagni, senza rischi di alcun tipo. E soprattutto queste persone, se possono essere interessate ai prodotti di TalkFusion, che abbiamo visto finora, per un utilizzo sia professionale che personale. Io sono sicura di sì, tutti noi conosciamo almeno due persone che corrispondono a questi requisiti. E a questo punto vi presento l'opportunità di guadagno che l'azienda TalkFusion offre, il piano di remunerazione che sta cambiando la vita di migliaia di persone ogni giorno in tutto il mondo, compresa la mia, grazie al cielo. Il titolo della slide che state vedendo si chiama Instant Pay, che vuol dire pagamento istantaneo, e TalkFusion è la prima e unica azienda al mondo che paga in modo istantaneo, ovvero le commissioni vengono accreditate entro i tre minuti successivi dalla realizzazione di una vendita. Se non è un metodo istantaneo questo, ditemi voi cos'altro è più istantaneo. Ora, per darvi un piccolo accenno di questo metodo di pagamento dell'Instant Pay, vi faccio vedere un altro piccolissimo video. vi faccio vedere un piccolo accenno. Grazie a tutti. 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 Arrivati al dodicesimo mese avrete creato un team globale di 4000 persone tra associate e clienti normali, 2000 nel team di destra e 2000 nel team di sinistra, partendo solamente dalla sponsorizzazione diretta di due persone. Quindi entro un anno avrete guadagnato team commission da 25 dollari, moltiplicato per 2000 volte, che fa esattamente 50.000 dollari. Vi garantisco che nessun'altra opportunità vi consente di crescere così tanto sponsorizzando solamente due persone. Tenete presente poi che alcuni dei vostri affiliati sponsorizzeranno più di due persone, cosa che sicuramente farete anche voi. Immaginate ad esempio di sponsorizzare due persone al mese, riuscite a intuire il potere della duplicazione e quali numeri potrete raggiungere. Il vostro team può crescere enormemente in tutto il mondo, semplicemente partendo dalla sponsorizzazione diretta di due persone che a loro volta sponsorizzeranno altre due persone e così via. Tuttavia però vi accennavo proprio un attimo fa che la realtà è ben diversa perché non tutti gli associate sponsorizzano due persone, ma molte di più, ad esempio proprio come me. Perché una volta capito o bene il meccanismo e le potenzialità della duplicazione non ci si può fermare a due persone. Però cambio momentaneamente argomento per farvi un brevissimo esempio. Vorrei farvi pensare un attimo al fenomeno di Facebook, chi non conosce il social network Facebook, penso sia il più famoso in questo momento. È stato creato solo sette anni fa, inizialmente veniva utilizzato soltanto dagli studenti del college. Ebbene, guardate dove è arrivato oggi, in soli sette anni ha raggiunto più di 900 milioni di utenti in tutto il mondo e come è stato possibile? Beh, con il passaparola niente di più semplice, gli studenti ne hanno parlato con altre persone, che ne hanno parlato con altre persone e così via fino ad oggi con quasi un miliardo di utenti registrati. E questo è quello che si chiama social network e il network marketing non è altro che un modello di business sociale. Il modello di business di soft fusion si basa sullo stesso principio, sul potere del passaparola e su quello della duplicazione. Ma tornando a noi, se sponsorizzate alcune persone e le aiutate a sponsorizzare altre persone e così via, potreste arrivare ad esempio ad avere 10 team di vendita a destra e 10 team di vendita a sinistra, anche in una sola settimana, volendo, impegnandosi e guadagnando 250 dollari di team commission anche in una sola settimana. Ma non è finita qui, perché sempre sfruttando il potere della duplicazione, potreste arrivare, ad esempio, ad avere anche 50 persone nel team di destra e in quella di sinistra, in una sola settimana, guadagnando 1250 dollari a settimana soltanto in team commission. E inoltre, in questo modo, secondo il piano di remunerazione dell'azienda, vi sarete qualificati per partecipare al programma per ricevere come bonus una Mercedes sinceramente pagata da soft fusion. Ma ancora non è finita qui, perché voi e tutti i membri del vostro team globale, continuerete a proporre top fusion ad altre persone, sfruttando sempre il potere della duplicazione e potrete arrivare, ad esempio, ad avere 100 persone nel team di destra e 100 in quelle di sinistra, anche in una sola settimana, volendo, guadagnando fino a 2500 dollari a settimana soltanto in team commission. Rifletteteci un attimo, perché guadagni del genere potrebbero cominciare a cambiare la vostra vita? Sono sicura di sì, ma non è finita qui. Oltre alle team commission, il piano di remunerazione prevede altri sei tipi di guadagni, secondo dei bonus. Andiamo a vedere il primo. Il primo bonus si chiama Fast Start e viene pagato ogni volta che realizziamo una vendita o la sponsorizzazione diretta di un associate e prevede un guadagno da 10 a 60 dollari in base al pacchetto di prodotti venduto. Abbiamo poi il bonus Mega Matching su base settimanale. Questo bonus consente di guadagnare il 10% delle team commission di tutti gli associate sponsorizzati direttamente. Ad esempio, se un vostro associate sponsorizzato direttamente in questa settimana ha guadagnato 1000 dollari in team commission, l'azienda vi pagherà un bonus Mega Matching pari al 10% di quella cifra, quindi in questo caso specifico 100 dollari. Passiamo poi al bonus Bronze Maker. Quando aiutate gli associate che avete sponsorizzato personalmente a sponsorizzare le prime due persone, raggiungendo quindi il livello Bronze, vi verrà pagato il bonus Bronze Maker pari ad altri 20 dollari ed anche per questo bonus non ci sono limiti. Andiamo a vedere gli ultimi tre. Abbiamo i bonus Advancement, che rappresentano un premio da parte dell'azienda per l'avanzamento nei vari livelli del piano di remunerazione e per ogni livello raggiunto guadagnerete un bonus una tantum in questo caso, che sono diversi in base al livello raggiunto ed è possibile arrivare a guadagnare un premio speciale fino a 5000 dollari. Un altro bonus è il Leadership Pool, viene pagato quando si raggiungono i livelli di Blue Diamond e superiori ed è pari all'1% delle entrate totali di tutta l'azienda. Non dimenticatevi che, come vi ho detto prima, SuccessFusion è già presente in oltre 120 paesi del mondo, quindi il raggiungimento di questo bonus sarà proprio come avere una fetta, una quota del reddito globale di tutta l'azienda. E infine abbiamo il Residual Income, che è il mio preferito ed è un bonus che rappresenta un vero guadagno istantaneo e passivo a lungo termine sulla base di tutti gli abbonamenti mensili pagati da associate e clienti del vostro team. Riceverete questo bonus settimana dopo settimana, mese dopo mese, per diversi anni. Ed è un bonus che è stato soprannominato guadagno sotto l'ombrellone, perché ogni volta che un associate o un cliente del vostro team in ogni parte del mondo paga l'abbonamento mensile, voi riceverete il bonus, anche se ormai avete smesso di lavorare perché non avete più voglia, vi state godendo la vita in spiaggia, magari sotto l'ombrellone. Quindi questo rappresenta veramente un guadagno passivo, reale e concreto. Ma perché i clienti acquistano i prodotti già chiuso e perché così tante persone, anche in Italia, finalmente decidono di diventare associate. Bene, per quanto riguarda i prodotti, sono talmente utili sia dal punto di vista personale che professionale, ma anche semplici da usare, che generalmente le persone li vedono, li vogliono e li amano subito. Inoltre vengono offerti a prezzi a dir poco vantaggiosi. Per quanto riguarda invece l'opportunità professionale, i costi di avvio dell'attività sono vantaggiosi veramente alla portata di tutti e soprattutto i rischi sono pari a zero. Quindi vi vado a presentare le varie opzioni. TalkFusion offre tre opzioni che corrispondono a tre pacchetti di prodotti, ognuno corrispondenti a commissioni diverse e vantaggi diversi per chi desidera anche sfoggere l'attività. Il primo è il pacchetto starter, viene offerto al costo una tantum di 125 dollari, circa 95 euro, più un abbonamento mensile di 20 dollari, circa 15 euro e include il solo prodotto di video email. Poi abbiamo il pacchetto executive che viene offerto al costo una tantum di 250 dollari, circa 190 euro e un abbonamento mensile di 35 dollari, circa 26 euro. Questo pacchetto include tutti gli otto prodotti di videocomunicazione più tutte le novità future che l'azienda andrà a realizzare. Inoltre include un template di video email completamente personalizzato e creato per voi dal team di grafici dell'azienda e permette agli associate di partecipare al programma per ottenere la Mercedes. Inoltre consente a chi desidera diventare associate di raddoppiare potenzialmente i guadagni, come potete vedere nella diapositiva nella colonna corrispondente delle commissioni. Infine abbiamo il pacchetto Elite che viene offerto al costo una tantum di 750 dollari, circa 570 euro, con un abbonamento mensile di 35 dollari, circa 26 euro. Questo pacchetto include, come il pacchetto executive, tutti gli otto prodotti di videocomunicazione più tutte le novità future che l'azienda realizzerà. Inoltre però include tre template di video email completamente personalizzati e creati dal team di grafici dell'azienda, più account per utente, un logo personale per video email sempre creato dai grafici dell'azienda e permette agli associate di partecipare al programma per ottenere la Mercedes. A differenza del pacchetto executive, il pacchetto Elite consente agli associate di triplicare i guadagni e ora vi spiego perché. Se osservate la diapositiva nella colonna delle commissioni corrispondenti, vedete che con questo pacchetto avrete tre business center a disposizione, di cui uno attivato automaticamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'acquisto di questo pacchetto automaticamente e istantaneamente riceverete il guadagno del livello bronze, ovvero automaticamente metteranno due persone virtuali, una nel team di destra e una nel team di sinistra. Quindi vi sarete qualificati al livello bronze e riceverete subito la commissione e automaticamente e istantaneamente il vostro sponsor riceverà il bonus bronze meter. Pensateci bene perché svolgendo la stessa tipologia di lavoro e anche lo stesso carico di lavoro guadagnerete tre volte di più. Quindi se avete a disposizione qualche soldo in più da investire nella vostra attività qualora decidiate di diventare associate, sicuramente il pacchetto Elite è la scelta migliore. Tuttavia potete sempre cominciare anche con uno dei due pacchetti ed eseguire l'upgrade di un futuro, nessuno ve lo vieta. Per quanto mi riguarda, come vi accennavo prima, Top Fusion secondo me oggi come oggi rappresenta il sistema migliore per garantire il proprio futuro. Anche perché siamo tutti consapevoli del fatto che un lavoro tradizionale, un'attività professionale o commerciale oggi non consentono di garantirsi un futuro. Anche avendo dei risparmi, i vari investimenti bancari e finanziari oggi sappiamo benissimo che non ci consentono di racimolare un bel gruzzolo per poter vivere gli anni a venire. Insomma per me Top Fusion è una grande opportunità, è l'occasione della vita e quando ci si trova davanti a una grande occasione sappiamo benissimo che il tempismo è veramente tutto. Quindi permettetemi di darvi un consiglio, terminata questa presentazione, contattate la persona che vi ha invitato questa sera e fatele tutte le domande che volete, esprimete tutti i dubbi, le vostre perplessità, è una decisione in tutta libertà ma prendetela abbastanza presto perché in fondo si tratta di pochi minuti del vostro tempo ma sono pochi minuti che potrebbero anche cambiarvi la vita. Rimandando la vostra decisione potreste perdere qualche vantaggio, vi spiego subito perché. La persona che vi ha invitato questa sera per proporvi questa occasione chiaramente ha invitato anche altre persone e continuerà a farlo e diventando associate il prima possibile potrete occupare la prima posizione libera, quella più favorevole all'interno del team. Se prendete tempo, se rimandate la decisione, altri diventeranno associate prima di voi e occuperanno le posizioni favorevoli prima di voi. Poi se deciderete in seguito di diventare associate, cosa per quanto mi riguarda comunque saggia, vi troverete però nel loro team invece di avere quelle persone nel vostro team. Bene, prima di salutarvi, siamo arrivati alla fine, vorrei solamente farvi focalizzare due ultime cose che io ritengo molto importanti. La prima è che vorrei ribadire che tutti, veramente tutti, possono svolgere questa attività, dagli studenti ai pensionati con tutte le categorie che si trovano nel mezzo. Se diventerete associate, se deciderete di intraprendere questa attività, non sarete mai soli. Vi ho detto che l'attività è completamente indipendente, potete scegliere voi quante ore dedicare al lavoro, nessuno, non avete un capo, potete svolgere l'attività part time, full time, due ore al giorno, un'ora a settimana. In base a quello che volete realizzare, volete ottenere, deciderete il carico di lavoro. Tuttavia però sarà a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un supporto tecnico di alta qualità. In più avrete il supporto di tutto il vostro team. Che cosa vuol dire? Il team che è già parzialmente creato, chiaramente ha già fatto una grande mole di lavoro. Tra l'altro la presentazione che vedete questa sera, nel caso in cui voi decidiate di intraprendere l'attività, non dovrete fare questa cosa. Questa cosa c'è già, esiste già. Voi non dovrete fare altro che sfruttarla per evitare le vostre conoscenze ad assistere, a partecipare alla presentazione come state facendo voi ora. Quindi c'è tutto un lavoro di squadra dietro che vi semplifica ancora di più l'attività vera e propria quotidiana. Inoltre il vostro team, i membri del vostro team, dalla persona, dal vostro diretto sponsor, a tutti quelli che fanno parte del vostro team, sono sempre pronti a innanzitutto insegnarvi la strategia di marketing aziendale. Che è veramente semplicissima. Ma soprattutto a supportarvi, perché visto che è un'attività adatta anche alle persone che non hanno mai fatto un lavoro del genere, vi garantisco che avete un supporto costante da tutti, in qualunque momento e soprattutto con qualunque mezzo voi vogliate. Magari quelli più rapidi possibili, come il telefono o Skype. Skype è quello più utilizzato, anche perché si riesce ad avere un confronto diretto con la persona che può aiutarvi, che magari si trova anche in un'altra parte del mondo, ma sicuramente può darvi una mano a superare le difficoltà in cui vi trovate. La seconda e ultima cosa che voglio dirvi è che vorrei che entriate subito nell'ottica che diventare associate di Top Fusion non vuol dire diventare venditori. Noi non siamo né venditori porta a porta, ma neanche virtuali. Noi, chi lavora come noi consiglia e propone i prodotti alle altre persone in modo che possano conoscerli ed eventualmente utilizzarli in modo vantaggioso per le attività professionali o per le attività personali e poi decidere se liberamente, se scegliere di cogliere questa grande opportunità di costruire un'attività di network marketing redditizia, indipendente e comodamente da casa oppure no. A questo punto sono andata di corsa, lo so, ma non volevo farvi perdere troppo tempo nella vostra serata. A questo punto non vi rimane altro che contattare la persona che vi ha invitato. Nel frattempo riapro la chat così possiamo anche salutarci. Contattate la persona che vi ha invitato, parlate con lei. Ricordatevi che Top Fusion vi offre non solo la possibilità di avviare un'attività straordinaria e redditizia, ma soprattutto la possibilità di cambiare radicalmente la propria vita e quella anche di altre persone. Quindi vi ringrazio per aver partecipato, sperando di ritrovarvi presto nel team. Vi saluto lasciandovi con un brevissimo video e potete utilizzare la chat se volete fare dei saluti. Buona serata a tutti e a presto. Ciao! Ciao! Ciao!